A proposito, hai visto Ingrid per caso? E chi è Ingrid? Come chi è Ingrid? Quella che vende di piccolina sfazzesca... Quella pionta, scantina fa... Quella che ho conosciuto in negozi di fruttifentola... Lei è venuta per comprare qualche ravanello, no? Poi un ravanello, tira l'altro... Alla fine ci ho dato anche i peperoni... Un ravanello, tira l'altro... Ma senti un po' Felice, ma non è quella lì Ingrid? Moroni, insieme a Catarifrangian Duman... Molta giusta l'acqua, allora... Ciao Ingrid, come va? Ciao, bene! Sende, vuoi venire un attimo con me nell'angela... Che ti faccia riprovare il prezzo dei frutti di staccione, vuoi venire? Scusa, Moro ha satanato! Se non ti dispiace, Ingrid Bergman è venuta qui con me a ritirare l'Oscar... Per piacere, eh? Sende un ronzì, che è insetto... È frequentato da insetto l'ambiente... Forse l'aria è condizionata... Vieni in un angelo che ti faccio riassaggiare la peperonata... E...